Si è insediata a Palazzo Lascaris la nuova Commissione Permanente del Consiglio regionale per la legalità e il contrasto ai fenomeni mafiosi. Dopo la presa d'atto da parte del Presidente del Consiglio Stefano Allasia dei nuovi commissari disegnati dai rispettivi gruppi politici, è stato eletto Presidente della Commissione Giorgio Bertola del Movimento 5 Stelle con 26 voti. Diego Sarno, Partito Democratico, candidato alla presidenza dalla centro-sinistra, ha raccolto 10 voti. Ringrazio innanzitutto i colleghi del mio gruppo per avermi proposto come Presidente e tutti i colleghi commissari che mi hanno votato. Siamo soddisfatti per l'ampia condivisione che ha avuto la mia candidatura. Continuerò a lavorare in continuità con quanto ho fatto nella passata legislatura quindi a svolgere il mio incarico come al solito con serietà, impegno ed equilibrio. Il capogruppo del Partito Democratico, Domenico Ravetti, ha dichiarato di volere rinunciare alla Vicepresidenza una scelta condivisa da tutta l'opposizione. Pertanto Monica Canalis, del Partito Democratico, che aveva raccolto tre voti, ha rinunciato all'incarico dimettendosi immediatamente. Per la maggioranza è stato eletto Vicepresidente con 19 voti Federico Perugini della Lega. Mi impegnerò per dare risposta a quanto è stato richiesto, serietà e coerenza, in particolar modo per i temi e le materie che verranno trattate. In subordine, ma in realtà è l'obiettivo principale, questa Commissione dovrà essere senza alcuna parte, senza alcuna bandierina, un utile strumento al Governo della Regione Piemonte. L'avvio delle procedure per la Commissione Legalità del Consiglio regionale Piemonte è stato portato a termine con l'insediamento della Commissione per l'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti per trovare un'intesa legislativa, per cercare di dare maggiori disponibilità sul territorio con una Commissione ad hoc come quella che si è insediata oggi.